Il pregiudicato gelese Antonio Schembri, 44 anni, è stato tratto in arresto e in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale della città del Golfo. L'uomo è infatti ritenuto responsabile di due rapine, la prima commessa il 21 e la seconda il 23 settembre scorsi, entrambi ai danni di anziani che avevano appena ritirato la pensione negli uffici postali. Infatti lo scorso 23 settembre i militari intervenivano in corso Salvatore Aldisio, dove un soggetto immediatamente dileguatosi aveva rapinato un anziano sottraendogli con violenza, tanto da farlo cadere a terra, 1080 euro appena prelevati dall'ufficio postale di Gela Centro e nella circostanza facendogli battere con forza testa e schiena contro un auto in transito, procurandogli lesioni guaribili in sei giorni. Le indagini, centrate su una minuziosa ricostruzione del percorso effettuato dalla vittima e dal rapinatore, partendo dall'ufficio postale sino al punto in cui è avvenuta l'aggressione e un accurato esame di tutti i sistemi di videosorveglianza presenti nella zona, hanno consentito rapidamente di giungere all'identificazione di Antonio Schembri, soggetto già noto per i suoi precedenti. Acquisiti i fotogrammi della rapina, gli stessi sono stati comparati con quelli di un'altra che presentava simili modalità di attuazione, avvenuta solo due giorni prima, ossia lo scorso 21 settembre in via Australia. In questo caso il rapinatore, dopo essersi avvicinato con la scusa di aiutarla ad un'anziana che aveva appena fatto la spesa e stava rientrando a casa spingendo un piccolo carrello, le aveva strappato la borsa contenente 460 euro, appena prelevati dal vicino ufficio postale. La donna, strattonata a terra, ha riportato la lussazione di un dito della mano destra e una violenta contusione al ginocchio per complessivi dieci giorni di prognosi. La comparazione tra i fotogrammi delle due rapine mostravano con chiara evidenza che il responsabile di entrambi i fatti era la stessa persona. Il rapinatore, in entrambi i casi, infatti presentava identiche caratteristiche fisiche, stesso modo di incedere ed era vestito con i medesimi abiti, motivo per il quale la Procura della Repubblica, che ha coordinato l'attività investigativa in considerazione della possibile reiterazione dei reati della stessa specie e della pericolosità sociale del rapinatore, ha chiesto al GIP di emettere l'ordinanza di custodia cautelare in carcere. L'uomo si trova ora nella casa circondoriale di Gela a disposizione della competente autorità giudiziaria.